Fiere scalda i motori Eire, la quattro giorni dell'immobiliare. Si aprirà il 22 maggio prossimo Eire, il Salone dell'Immobiliare, ospitato alla Fiera di Milano, che proporrà un fitto calendario di incontri e di presenze da tutto il mondo. Grandi convegni istituzionali, piani di riqualificazione, enti pubblici e privati a caccia di investitori. Il 22 maggio si terrà il primo dei quattro convegni, organizzati dal Comitato Scientifico di Eire, con il Politecnico di Milano. Sarà intitolato l'emergere delle nuove città dalla trasformazione delle aree industriali dismesse. L'Agenzia del Demanio presenterà poi il Long Lease, affitto lungo che permetterà di valorizzare gli immobili dello Stato. Tom Cruise acquista Villa Principesca per 35 milioni di dollari. Tom Cruise, uno degli attori più pagati in assoluto, ha acquistato una villa a Beverly Hills, sulle colline di Los Angeles, per la stratosferica somma di 35 milioni di dollari. La villa ha una superficie di 1300 metri quadrati circa, con 8 camere da letto e 10 bagni. Si trova all'interno di un parco di mezzo ettaro, con piscina e campo da tennis. La struttura è ovviamente dotata delle più moderne tecnologie, e si trova a pochi passi da quella recentemente acquistata dal calciatore britannico David Beckham e dalla moglie Victoria, per 22 milioni di dollari. Per la gioia della moglie di Cruise, Katie Holmes, amica del cuore della X-Spice. La struttura è la struttura è la struttura.